Ehi, cosa fa? Succhia la benzina. Ma per chi mi ha preso? Scorsi, per un volgare delinquente? Io sono ministro della Repubblica, ministro dell'economia per la PCCN. E cosa fa, ministro? Ma come cosa sto facendo? Sto facendo prelievo della benzina per sovvenzionare il cinema italiano. Ma così il proprietario del motorino resterà senza benzina. E allora? Vuoi dire che stasera non andrà al cinema?